Il primo maturato del liceo Galilei di Catania, com'è andata? Allora, è andata bene, l'esame si è svolto come ci avevano presentato, quindi la prima parte con l'elaborato, poi la seconda parte con l'analisi del testo di italiano e la terza parte con i collegamenti. I professori sono mostrati molto disponibili, sia durante la ripetizione dell'elaborato, con il supporto del PowerPoint, ma anche nella seconda parte con l'analisi del testo, è andato il tempo di analizzare il testo, per qualche minuto leggerlo e poter sottolineare le parti più importanti. Nella terza parte mi sono dato anche il tempo di esaminare il documento e anche di fare i miei collegamenti, di scrivermeli sul foglio e appunto la disponibilità dei professori si è vista anche nell'accettare quelli che erano i collegamenti fatti da me personalmente, anziché interrompere o cercare di trasportare il discorso sulla loro materia. Quindi in generale comunque si è svolto in maniera molto fluida l'esame, non c'è stato alcun intervento forzato. Cosa ti aspetta quest'estate? Intanto al 30 giugno avrò gli esami della patente, quindi per due settimane dovrò passare tutto il tempo a studiare per riuscire a superarli. Dopodiché appunto un piccolo viaggio con alcuni compagni della classe per festeggiare la fine di questo percorso di cinque anni. Poi ad agosto appunto la casa al mare come ogni estate, ma niente di eccezionale, probabilmente il viaggio sarà la cosa più importante di quest'estate. L'università qualità? Allora, già sono entrato, quindi è soltanto la questione di iscrivermi. Poi a metà luglio è il Politecnico di Milano, in particolare ho scelto Ingegneria Biomedica. Non so ancora cosa mi aspetta dopo, sinceramente non ho ancora piani lavorativi per il futuro, ma spero che il percorso universitario mi indirizzi in qualche modo verso una particolare professione che potrebbe essere più corretta per me personalmente con il mio percorso. Maturità 2021, com'è andata? È andata bene, i professori ti mettono molto attuaggio, sono stati veramente buoni, comprensibili, flessibili con i tempi, quindi penso sia andata bene. Cosa farai quest'estate? Me la godrò, dovrò anche un po' studiare per i test di medicina, però me la godrò, penso essendo l'ultimo estate comunque veramente libera dopo l'università. Pensi di partire? Sì, sì, farò il viaggio ovviamente di maturità. Andremo a Barcellona, spero andrà bene. E cosa vuoi fare da grande? Voglio fare medicina, infatti appunto devo studiare per i test, spero anche questo vada bene. Allora, quest'esame è stato, possiamo dire, semplice, ma non dobbiamo vederlo come un vero esame, ma come un percorso di tutti e cinque gli anni. Ci sono stati, sì, dei momenti prima dell'esame, comunque di insicurezze. Notte scorsa ho dormito pochissime ore, però devo dire che comunque sono molto tranquillo, sono entrato molto tranquillo, i professori mi hanno messo a mio agio, mi hanno dato tutto il tempo di cui avevo bisogno ed è stato semplice comunque parlare. È importante comunque parlare con tutti i professori, comunque coinvolgere tutta la commissione ed essere il più, cercare di essere divertenti o comunque collaborare anche con loro. Ed è molto importante. È stato un percorso bello, mi sono divertito durante tutti e cinque gli anni. Ho avuto sia momenti tragici, comunque momenti in cui volevo abbandonare, ma sono sempre andato avanti, a testa alta. Questo è molto importante. E ora spero, finito l'esame, di andare a divertirmi quest'estate. Parto prima a Vulcano e poi a Rodi, quindi farò due viaggi, un viaggio con i compagni e l'altro con la mia fidanzata e spero che ci divertiremo. Studierò anche per l'università, per entrare al Politecnico di Torino in Ingegneria Meccanica e sono motivato per questo.